Inizia ad ottobre ad Arezzo il corso dell'ITS Energia e Ambiente, l'istituto partecipato da Estra, in progettazione digitale e sostenibilità energetica dei sistemi, dei prodotti e dei processi per industrie 4.0. Un premio di 20.000 euro e la possibilità di operare gratuitamente per un anno a Prato nella sede di Prisma. È quanto offre Estra a 5 start-up in grado di lavorare per lo sviluppo digitale dell'istretto Tessile. Due nuovi impianti Estra a Castiglion Fiorentino per la ricarica dei veicoli elettrici. Con le postazioni del comune aretino sono 27 le colonnine per la ricarica elettrica installate da Estra in Toscana. Una rete ampliata di oltre 10 km, così centri alla società di distribuzione di Estra, porterà il metano alle frazioni di Monte Rigioni, all'antico borgo medievale, alle porte di Siena.